Le tre parole che ho scelto sono cittadini, democrazia e software, vi spiego perché. Rousseau diceva, le maison font la ville, me le citoyen font la cité, cioè la città è i suoi cittadini ed una città è smart se i suoi cittadini lo sono, se sono cioè in grado attraverso le tecnologie digitali di esercitare la propria cittadinanza, attiva, responsabile, consapevole e informata, protagonista in prima persona delle scelte che li rilassero riguardano direttamente. 200 anni dopo l'illuminismo e la rivoluzione francese, credo che la democrazia vada oggi ripensata nell'era digitale proprio a partire dalle città, laddove i cittadini possono condividere esperienze e conoscenze, esercitare la propria intelligenza civica e inventare nuove pratiche democratiche che intrecciano rappresentanza e partecipazione diretta. Ma proprio l'essere queste innovazioni di carattere socio-politico ma anche digitale comporta una sfida, il codice della democrazia oggi oltre che nelle leggi sono nel software, l'esercizio della cittadinanza impone di sapere inventare, sviluppare, sperimentare piattaforme software capaci di supportare le nuove pratiche democratiche, quindi necessariamente aperte ed inclusive, difficilmente saranno quelle sviluppate per altre pratiche, ad esempio commerciali e altri pubblici e dunque la terza parola è coprogettazione del software per la partecipazione civica nell'era digitale.